C'è ancora molto da lavorare in casa Novara, diciamo che il Novara è un cantiere aperto perché bisogna ancora lavorare molto perché nella partita di ieri a Monza non si è visto un grande Novara, si è visto un Novara che ha creato poche occasioni, forse un'unica occasione con Piscitella al 45esimo poi 30 secondi dopo la legge del sbagliato col subito 30 secondi dopo arriva il gol del Monza e però è stato il divario tecnico tra le due squadre era netto, si vedeva il Monza ha una grandissima squadra con giocatori di altre categorie però noi potevamo fare molto di più, certamente potevamo fare molto di più, potevamo fargli sudare la vittoria invece Sono stati i 90 minuti dove ha dominato il Monza, mealtando ampiamente ampiamente la vittoria che è arrivata una vittoria rotonda 2 a 0, un gol per tempo Il primo gol su diciamo una ripartenza, Sbraga e Pogliano si sono persi l'attaccante e il secondo gol sul calcio d'angolo Ma comunque un Monza veramente superiore che si vedeva anche nel gioco, nella costruzione delle azioni Passaggi veloci, sbagliavano veramente poco, arrivavano spesso fuori dall'area pronte a tirare Mentre il Novara diciamo molto macchinoso, ha sbagliato tanto, anche ad esempio i giocatori come Collodel che avevano fatto una grande partita contro la Juventus Andal 23 Oggi e ieri sono stati un po' sottotono, devo dire che mi è piaciuto molto Piscitella Che diciamo a differenza degli altri che avevano giocato bene la scorsa partita, lui aveva giocato male contro la Juventus Andal 23 Mentre oggi è giocato bene, molto propositivo, è stata l'unica occasione del Novara E' stata sua con una grandissima giocata, è passato in mezzo a due e poi da posizione esterna l'ha tirata fuori di poco E' stata l'unica grande occasione del Novara Poi non abbiamo creato, nel primo tempo il Monza ci teneva nella nostra metà campo Poi nel secondo tempo abbiamo provato, abbiamo provato però un giro palla veramente troppo lento Abbiamo sbagliato dei passaggi veramente elementari Male anche Bortolussi che nei contrasti aerei non ne ha vinto neanche uno Non è riuscito a fare neanche una sponda Peccato, veramente peccato Poi il centro bene possiamo dire bene la difesa perché ha retto bene Anche se hanno subito due gol diciamo che ha retto bene Perché mi ricordo ad esempio un salvataglio sulla linea di Pugliano forse O anche uno di testa di Spraga Cioè Spraga e Pugliano si intendono bene e hanno fatto una buona partita Sei e mezzo per tutti e due Il centrocampo no, il centrocampo non c'era Poi Nardi quando è entrato ha provato a fare del suo meglio Bene i marchigiani, gli esterni, gli esterni male Ma poi un'altra cosa, secondo me il modulo è un modulo sbagliato Perché Gonzales non è un esterno Gonzales può essere una punta o uno che agisce vicino alla punta Ma non può essere esterno Perché Gonzales molte volte era molto vicino a Bortolussi Perciò c'era tutta una fascia libera C'era tutta una fascia libera E ovviamente Cassandro non poteva fare tutta la fascia Gonzales doveva supportare Cassandro Cagnano Chi era su quella fascia lì Invece era come una seconda punta Io farei più un 4-4-2 con Bortolussi e Gonzales Adesso che è arrivato anche Capanni che è un esterno Perché Gonzales non può essere un esterno d'attacco Deve essere un giocatore che agisce vicino alla punta Comunque niente ragazzi niente Ci dobbiamo rifare alla prossima in casa contro l'ecco E niente lasciate tanti bei like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo in un prossimo video Bella ragazzi e sempre forza novare E noi ci vediamo in un prossimo video